Monovolume compatta fuori e tecnologica dentro, la B-MAX sviluppa il tradizionale stile Ford di ultima generazione, con linee tese ma elegantemente armonizzate nelle forme, con il risultato di una vettura sportiva e dall'immagine sempre attuale. In linea con la filosofia bassi consumi ed emissioni, Ford equipaggia le B-MAX con i motori di ultima generazione, tra cui i tre cilindri EcoBoost 1000 da 100 e 120 CV. Potente e silenzioso, secondo Ford sarà il più gettonato tra i motori benzina sul mercato italiano. Non mancheranno comunque i quattro cilindri 1.4 e 1.6 e poi anche i diesel. Su questa vettura lanciamo anche il motore 1000 EcoBoost che è un motore di cui siamo assolutamente fieri perché è un motore studiato interamente in casa Ford e assolutamente innovativo dal punto di vista delle soluzioni, tant'è vero che è un motore pluripremiato, ma è un motore che non solo ha ridotto mediamente del 25% i consumi rispetto alle motorizzazioni tradizionali a benzina, ma dà anche tanti benefici dal punto di vista delle emissioni e soprattutto è un motore che essendo 1000 cilindrata offre dei grandi risparmi in termini per esempio assicurativi, quindi un motore che si colloca perfettamente nel momento storico in cui stiamo vivendo e quindi direi ancor più una vettura che ci voleva. La facilità di ingresso segna un reale passo avanti nella progettazione e nella tecnica. Una delle caratteristiche della B-Max è infatti la mancanza di montante centrale. Gli sportelli, una volta aperti, offrono a persone e bagagli uno spazio per le manovre davvero versatile ed eccezionale come idea. Le portiere anteriori, classicamente al libretto, si distinguono da quelle posteriori a scorrimento, tipiche delle monovolume e dei veicoli commerciali, dove lo spazio è il bene fondamentale. In poco più di 4 metri offre 5 posti ed un bagagliaio tanto ampio quanto flessibile. Inoltre la possibilità di reclinare in avanti i sedili permette di caricare oggetti lunghi fino a 2,30 metri. Insomma questa monovolume compatta offre versatilità, spazio e comfort a tutti i passeggeri. Grazie a tutti! Grazie a tutti.